Buongiorno a tutte! Allora, come potete vedere, sono sul traghetto perché mi sto spostando dall'isola di Kress all'isola di Kerk, sempre in Croazia. Stiamo andando al paese di Vasca, se qualcuno la conosce, che è praticamente nella parte sud dell'isola di Kerk. Io ci sono già stata tre anni fa, quattro anni fa e vorrei tornarci prima in una città bellissima. È molto caratteristico, ci sono un sacco di negozietti, il mare è bello, si mangia bene e quindi stiamo facendo questa gita. Allora, qui sotto ci sono le macchine, è un traghetto piccolo, quindi si è attraversato di 25 minuti e poi invece qui dietro c'è il resto. Noi siamo fuori, è già partito da circa 10 minuti quindi ne restano ancora pochi, tra poco qua dovremo scendere per riprendere la macchina insomma a prepararci per scendere, quindi ci vediamo a Vasca direi, a tra poco. Eccoci arrivati a Vasca. Allora questo qui è tutto in lungomare, poi lì in fondo ci sono dei campeggi che si affacciano sempre sul mare, il mare è così, quindi è decisamente bello, un po' freddino eh. Infatti appena siamo arrivati ci siamo buttati subito perché il sole è proprio caldissimo, quindi non si riesce a stare. Infatti adesso pensavo di farvi vedere un po' qui com'è e poi di ributtarmi assolutamente perché sto cuocendo letteralmente. Ecco la cosa è un po' brutta e che comunque non c'è molta spiaggia, infatti noi ci siamo messi qui su questo molo di cemento insomma, che è comodo perché è piatto, non ci sono i sassi, però non è proprio morbido ecco. Abbiamo provato a chiedere per dei lettini però a noi serviva solo mezza giornata e non lo facevano, lo facevano solo tutto il giorno quindi non li abbiamo presi. Contate che qui dove stai riprendendo io non tocco, quindi è comunque abbastanza profondo, ci si può tuffare. Non ho un bellissimo aspetto quindi eviterei di... perché sono appena uscita appunto dal bagno. Allora adesso siamo a mangiare, siamo in questo ristorante di cui ho detto prima che si chiama ciccibela e ne abbiamo già provato e che è molto buono. Io ho ordinato un piatto di prosciutto crudo d'armata e un piatto di calamari frutto con le patate. Quindi adesso aspettiamo che ci portano le mie cose e poi ci faccio una bella scocciata. Una cosa prima di lasciarvi, volevo farvi vedere se avete visto il tutorial che ho fatto con le sue pupa. Ormai è tre giorni che ce l'ho su e stamattina mi sono staccate le due veine qui per farvi vedere un po' la durata. Quindi insomma bisogna starci attenti, io non stavo facendo nulla di che, quindi proprio nella quotidianità ecco. Adesso buona petita a tutti. Eccoci qui. Allora siamo di nuovo all'imbarco del traghetto per tornare sull'isola di Cress. E' stata una bellissima giornata ma siamo sfiniti perché abbiamo stramangiato in quei posti di cui vi ho parlato prima. Era tutto buonissimo però veramente tanto, tanto, tanto. E in più non contento e abbiamo preso una mega coppa di gelato di cui poi vi metterò le foto. E quindi niente, adesso accaldati e stanchi, stiamo aspettando di poter tornare alla nostra casa mobile. E niente, vi consiglio molto di venirci perché era molto molto carino, il mare è splendido, si sta benissimo, si mangia bene e quindi è molto consigliato. Fatemi sapere se vi è piaciuta questa piccola città che abbiamo fatto, se ci siete stati anche voi e come se avete anche altri consigli da darvi. Mi raccomando, seguitemi in tanti. Ciao! 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 Ciao!